Restano a bocca aperte visitatori che da qualche giorno accorrono nel Palazzo della Cultura di Reggio Calabria, l'ex brefotrofio cittadino trasformato in pinacoteca, incantati davanti un dechirico, Dalì, Sironi, gli animali di Ligabue, i tagli decisi di Lucio Fontana, il volto intenso della Vergine Annunciata, ma a destare ancora più stupore la provenienza di queste 108 opere, un dono inaspettato per la città, una collezione che fino sei anni fa riempiva ogni parete di casa di Gioacchino Campolo, imprenditore ora condannato a 16 anni di carcere, che truccando le sue macchinette da gioco ed evadendo il fisco, ha accumulato un impero da 330 milioni di euro, fatto di palazzi, ville, negozi, conti correnti e società. È una collezione eterogenea, ma che a suo tempo è stata studiata ed è stata inquadrata come una collezione medio borghese, quindi pezzi un po' più coraggiosi, arte astratta e pezzi un po' più tradizionali, quindi arte figurativa però di valore e poi alcuni pezzi d'epoca, soprattutto di soggetto religioso. A partire dal 2008 una serie di sequestri ha tolto tutto a Gioacchino Campolo, comprese le opere d'arte attraverso cui ostentava il suo potere, ma non si può dire fosse esperto né ben consigliato, se tra i suoi acquisti figurano Falsifiume, Guttuso, Schifano e altri ancora oggetto di studio. Di questa raccolta fanno parte alcuni clamorosi falsi, con nomi che fanno tremare le pareti, addirittura un Picasso. Impiegarono giorni gli uomini della Guardia di Finanza di impacchettare e trasportare in un cavo della Banca d'Italia quel tesoro accumulato illegalmente, che adesso definitivamente confiscato diventa patrimonio della città.